segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo questo è un tema quirico qual è la tua analisi che questo è tutto un popolo che ormai non vede una seconda soluzione cioè questo scontro dovrà essere consumato fino in fondo cioè dovrà essere consumato fino a che uno dei due non verrà sconfitto o esiste a un certo punto un esito negoziale possibile ma semplicemente adesso è troppo presto o troppo tardi cioè l'esito negoziale in questa vicenda non esiste più perché il problema non credo sia più quello di qualche chilometro in più in meno di don basso di di mario polo di qualche altra di qualche altro pezzo di ucraina il problema che è stato gettato sul terreno da Putin con la sua invasione brutalmente è quello di una ridiscussione degli equilibri di potenza nel mondo non soltanto nell'europa centrale allora in tutto questo la diplomazia che giustamente cerca il cessate il fuoco la tregua di un giorno mezzogiorno tre giorni non ha più alcun senso cioè Putin si ferma quando qualcuno cioè Biden gli dirà va bene d'accordo ci troviamo ad Helsinki o a Ginevra però e ridisegniamo la carta del mondo però domenico tutto questo noi lo diciamo oggi ma noi stiamo venendo da dei giorni se vogliamo vedere questi due mesi con probabilmente molto più di diecimila soldati uccisi tra i russi ragazzi giovani anche giovanissimi una nave che era l'ammiraglia nel mar nero affondata miseramente oggi la struttura una delle principali più sofisticate strutture del ministero della difesa vicino mosca in fiamme che non si sa se per gli russi sia meglio augurarsi che sia stato un incidente oppure un sabotaggio no ma comunque ci sono questi segnali di fragilità nella sua forza della russia anche nell'immagine esterna che sta dando no che potrebbe a un certo punto portare portare Putin o qualcuno vicino a lui e a a trovare lui stesso una soluzione per uscirne no che non sia quella che dici tu della logica della pura conquista questa questa è un'illusione cioè io ho visto in azione l'esercito russo l'esercito putiniano nelle due guerre cecene e nella guerra siriana allora lo dico con con strazio quello che raccontava la la signorina la ragazza ucraina gli ucraini hanno provato un millesimo delle della potenzialità distruttiva annientatrice dell'esercito russo non la capacità operativa dell'esercito russo può essere bassa come ha dimostrato questa prima parte della guerra ma questo non significa niente la capacità di distruzione dell'esercito russo immensa Mario Pola potete moltiplicare per tutto il territorio ucraino voi mi direte ma perché non l'ha non l'ha usata ma evidentemente perché alza il livello della sua violenza a seconda delle risposte degli altri e via via che le risposte degli altri si fa più dura o più tenace o subisce degli scacchi lui alza il livello della sua violenza fino ad arrivare il punto in cui otterrà quello che vuole professore e la logica e la logica della guerra russa professore e ce ne sono altre